Per gli stagioni, Johannes Voigtman fa 0 su 2, ma c'è B-Liga! Rimbalzo in attacco e canestro! Altra giocata di importanza monumentale di Paul B-Liga! Allora, ciao a tutti, mi chiamo Paul B-Liga, giocatore di basket professionista all'Olimpia Milano adesso. Ho giocato anche con la nazionale italiana negli ultimi 5-6 anni. Ho organizzato l'Oupe Nature Sassoferrato Camp per collegare insieme natura e sport, in particolare la pallacanestro. L'idea dietro era di parlare un po' della biodiversità. Allora, ciao a tutti! I ragazzi avranno un modo di giocare a basket, di imparare cose nuove, ma anche di fare escursione. Uno, due, tre! I ragazzi!